Cosa cambia rispetto a prima? Che mentre prima il medico refertava in 40-50 minuti un esame di questo tipo, adesso lo referta in 5 minuti. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è la principale novità del nuovo punto salute che l'IRCA ha inaugurato a San Ginesio nel cuore dell'entroterra maceratese. La telerefertazione dell'ECG dinamico tramite IA consente di analizzare i dati in pochi minuti. A San Ginesio verranno effettuate la rilevazione dei parametri vitali come saturazione e pressione arteriosa, esami cardiologici, spirometria ed esami dermatologici. Il medico specialista effettuerà la refertazione e la valutazione del problema online entro 48-72 ore. L'ambulatorio è rivolto alla sola erogazione di prestazioni non urgenti. Sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato. L'accesso avviene tramite prescrizione del medico di medicina generale e la prenotazione si effettua contattando telefonicamente il CUP o recandosi presso gli sportelli CUP dell'IRCA o chiamando i numeri dedicati. Il tema centrale della sanità è la carenza di medici. Purtroppo per formare un medico servono 10 anni e 10 anni fa hanno programmato solo 10.000 medici. Questo punto salute è un segnale che viene valutato e colto a livello nazionale come una struttura innovativa e penso che lo stesso ministero e le altre regioni seguiranno questo modello marchio. I punti salute nascono per rispondere alla carenza di medici e ai bisogni di una società che invecchia. Contribuiscono a ridurre il numero di accessi impropri in pronto soccorso con effetti immediatamente riscontrabili sui tempi della specialistica ambulatoriale e alleggerendo la domanda sul sistema ospedaliero. Questo è il quinto punto salute inaugurato da IRCA nell'ultimo anno dopo Acqua Santa Terme, Appignano, Osimo e Castel Raimondo. In regione saranno complessivamente una cinquantina. Altri sono stati attivati a Pian di Meleto, Frontino, Lunano, Belforte all'Isauro e Fossombrone, Arcevia, Sassoferrato, Cingoli, Loreto, Monte San Vito, Castelfidardo, Recanati, Fiuminata e Matelica.